Eliana Bellardita, qual è la posizione del Comitato Gelensis Populus in merito al rinvio delle elezioni per l'ex provincia? Il rinvio sicuramente non risolve quella che è la mancata annessione territoriale di Gele e delle altre comunità alla città metropolitana di Catania. Per cui questo rinvio al 26 febbraio, se non consente di trovare soluzione a questa problematica della mancata annessione e quindi del completamento dell'articolo 44 della legge 15 del 2015, ripresenterà nuovamente il medesimo problema. Possiamo definirlo un vero e proprio pasticcio? È un pasticcione, non un vero e proprio pasticcio. È ancora peggio che un pasticcio. L'unica cosa che io mi auguro e auspico, e in questo voglio dire sollecito un intervento pubblico da parte del sindaco, è di capire in questo frattempo cosa l'amministrazione ha intenzione di fare. Perché questo tempo può essere utilizzato come opportunità, però questa volta come opportunità fattiva e valida, per trovare una soluzione che poi la soluzione sia giudiziaria o sia politica, lo scelga in maniera chiara l'amministrazione. Però il sindaco di Gela ha scritto al governatore della Sicilia, Crocetta, ha scritto all'Assemblea regionale siciliana, sottolineando che non si può stravolgere la volontà popolare manifestata dal gelese in merito all'adesione di Gela a Catania. Sì, questo è il punto di partenza ed è un punto di partenza che ormai è noto ai più. Noi vorremmo capire dal sindaco, dopo aver preso atto di ciò, cosa intende fare effettivamente? Vogliamo chiedere al sindaco se vuole approfittare di questo periodo fino al 26 febbraio per mettere in campo una strategia, un'azione. Sappiamo della nomina di una serie di professionisti. Avevamo avuto tempo fa la nomina di un professionista locale a cui è seguito meno di 20 giorni fa la nomina di uno stimatissimo professionista, un professore costituzionalista. Ci vuole dire ad oggi che cosa si è fatto dal momento che l'incarico riguardava anche la sospensione e l'impugnazione delle elezioni. Oggi le elezioni non si tengono. Questo professionista, il mandato, gli è stato rideterminato. Che contenuto ha questo mandato? Ad oggi il sindaco mi pare che non dica assolutamente nulla. Il vostro sospetto è che il sindaco di Gela possa candidarsi alla presidenza della libera consorzio di Caltanissetta. Poco prima della sospensione del rinvio delle elezioni mi pare che le voci fossero assolutamente insistenti in questo senso. Mi pare che il sindaco non abbia neanche smentito.